Cari amici videogiocatori, cineferi incalliti, Videoban consiglia film, vi consiglia nella valle di Ela del 2007 con Tommy Lee Jones e Charlize Theron che fanno due interpretazioni formidabili assolutamente. Il film racconta la storia di Tommy Lee che è un ex veterano del Vietnam che attende il figlio tornato dall'Iraq ma non ha più sue notizie per lui comincerà un'indagine altamente drammatica per scoprire che fine ha fatto. Quindi è un film molto asciutto nei dialoghi, quelli essenziali, proprio come piace a me. È un film estremamente drammatico, è un film contro la guerra, è un film secondo me da vedere assolutamente, chiaramente non è un film movimentato assolutamente, non è un film d'azione, però è un film che si lascia seguire tutto d'un fiato. Il mio grado di consiglio è 4 su 5, quindi assolutamente da vedere da Videoban e Cetokri. Arriveducci!